questa sera inauguro una nuova rubrica dal titolo indovina l'oggetto misterioso infatti è atterrato sul mio banco questa scatola nera di cui non so proprio nulla quindi invito anche voi a indovinare cos'è e poi mi direte nei commenti a che minuto avete capito di cosa si tratta ho coperto l'etichetta per evidenti motivi di riservatezza leggiamo i dati di targa che sono indicati abbiamo in 300 n out 150 n 230 v 50 hz 150 w 40 mm sec max 400 mm 0,8 a e poi abbiamo i dati sul numero di serie già dalla targhetta si può fare qualche tentativo sul pannello frontale abbiamo due fili un led vi dico che il peso è di circa 3 4 kg abbastanza pesantuccio poi abbiamo qua questa specie di connettore adesso procediamo l'apertura quindi andiamo a rimuovere queste sei viti sul coperchio metallico una volta aperto l'oggetto si presenta così beh direi che è un grosso indizione qua perché abbiamo due ingranaggi questo oggetto con un albero e un po di elettronica qua sembra che ci sia un condensatore un relais all'interno una bustina con dei connettori probabilmente per eseguire bene il cablaggio poi vediamo che i fili che uscivano sono attaccati in realtà a questo led quindi siamo in presenza di un organo meccanico e di una piccola schedina che crea l'alimentazione per la movimentazione di questo oggetto zoomando sulla scheda riconosco qualche componente a bordo la serigrafia se volete potete anche provare a indovinare qual è la funzione di questa scheda con questi tre componenti sono anche poi da menzionare queste due scatolotte nere con dei fili rosso e bianco che poi vengono raccolti nella parte di schedino con questi due connettorini qui sotto abbiamo infine questa etichetta quindi un'indizione finale dove ci viene scritto vedere le istruzioni ma comunque abbiamo una piccola rappresentazione della schedina dove viene rappresentata la spia quindi questa lampadina qua comune apertura chiusura un pulsante e la 230 volt abbiamo in dotazione questo connettore tipo fenix lo andiamo a cablare seguendo la serigrafia e vediamo cosa succede bene qui ho preparato il connettorino quindi la lampada su questi fili la spina della 220 volt abbiamo il comune o il neutro lo mettiamo qui la fase la portiamo al centrale di questo interruttore e i due fili dell'interruttore li portiamo su questi due piedini che hanno la scritta apertura chiusura cosa dite ci fidiamo a darla 230 volt direttamente ma io l'oggetto l'ho visto in condizioni buone per cui facciamo questo tentativo male che vada salterà una protezione bene facciamo il primo test muovo l'interruttore nella posizione apertura attenzione lì alle parti metalliche perché c'è il 230 volt ma noi stiamo attenti con le nostre ditina o si muove a fine corsa si accesa la lampada ora se vado dall'altra parte abbiamo un motore al contrario quindi da questa parte vediamo questo movimento da quest'altra movimento opposto non so se ci avete fatto caso ma alla fine l'elemento in movimento è questo qui che esce da il contenitore di circa due centimetri avanti e indietro ecco qui rappresentato lo schema quindi abbiamo la 230 volt di ingresso con fase neutro il motore il condensatore la spia il relais con la bobina e i suoi contatti con le posizioni normalmente chiuse indicate qui e i due micro switch quando l'interruttore viene messo sulla posizione di apertura se il micro switch è in continuità per cui vuol dire che il motore è libero di girare abbiamo che c'è la corrente che scorre fra la fase e il neutro su questo ramo vediamo che però vengono tagliate le semionde negative quindi in realtà su questo ramo verrà a polarizzarsi una corrente solo con un verso per questo motivo in parallelo alla bobina è stato previsto un condensatore elettrolitico che sostiene l'energia alla bobina quando la sinusoide viene tagliata per metà questa resistenza serie ha la funzione di limitare la corrente al relais e di fare da partitore di tensione di modo che i capi di relais della bobina si localizzi una tensione che sia adatta al suo funzionamento infatti abbiamo visto che questo relais ha una funzionamento massimo di tensione per 60 volt quindi quando è stabilito il contatto sulla posizione apertura il relais commuta e viene inserito questo condensatore in serie al motore quindi la corrente dalla fase attraversa il motore va sul condensatore e ritorna tramite il fine corsa al neutro fin tanto che la posizione dell'albero motore non raggiunge un punto in cui viene aperto questo microswitch a questo punto il flusso di corrente viene interrotto quindi il relais si diseccita e il motore si ferma se ci fate caso quando ho fatto prima la movimentazione di apertura il motore compie il suo movimento ma alla fine non viene tagliato e infatti comincia a vibrare ecco che quindi abbiamo trovato il guasto su questo oggetto in pratica il micro 1 che dovrebbe tagliare l'alimentazione a fine corsa non lo fa per cui posso andare a guardare da un punto di vista meccanico come mai questo micro contatto non si apre a fine corsa se invece posiziono l'interruttore su chiusura abbiamo che la corrente attraversa il motore il relais non viene eccitato perché abbiamo che il micro qua è aperto e la corrente fin tanto che questo microswitch di fine corsa da questo lato rimane in continuità scorre in questo modo il condensatore non c'è perché il motore deve fare il movimento inverso per cui non c'è bisogno dello sfasamento che lui introduce questa operazione prosegue fin tanto che il motore non raggiunge l'altro fine corsa quando viene raggiunto si toglie continuità fra questi due punti neri e invece si viene a creare continuità fra questi due punti e quindi il motore viene escluso in quanto il suo ramo in corrente viene tagliato e viene invece creato questo ramo di corrente sulla lampada di fine corsa per cui quando l'oggetto ha finito il movimento di chiusura il motore si ferma e la lampada si accende è interessante notare quindi che il motore esce con cinque fili che sono giallo blu giallo bianco nero di questi fili ne vengono utilizzati solo due in questa configurazione e ne abbiamo due in cortocircuito per fare ruotare il motore in una direzione nell'altra c'è bisogno dell'inserimento del condensatore serie magari in una prossima puntata andremo ad aprire il motore e vedere il suo funzionamento di dettaglio ecco quindi svelato il nostro oggetto misterioso si tratta di un attuatore per aprire e chiudere le finestre magari in una prossima puntata possiamo andare a visualizzare le tensioni con l'oscilloscopio ed eventualmente anche aprire questo motore che sicuramente può essere interessante vedere come realizzato e vedere quali sono tensioni correnti durante il suo funzionamento scrivetemi nei commenti se avete indovinato l'oggetto misterioso e a quale minuto e niente ci vediamo alla prossima ciao